bella Whatsapp Jam episodio B alla facciazza di tutti quelli che pensavano che il post di settimana scorsa su Andrea Key fosse un bluff lui è un altro Andrea Andrea Saidu interprete, autore, speaker di radio PNR e fonico della Balance Recording Studio di Tortona fra un paio di giorni uscirà con un suo inedito che io già so essere una bomba e quindi abbiamo pensato di anticiparlo con questa cover che come dice il buon Saidu e neanche Jimmy questa proprio se l'aspettava Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 1, 2, 3, 4 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti